Una ghiacciaia, probabilmente risalente al periodo medievale, è stata portata alla luce nei pressi della fortezza medicea di Arezzo, proprio nell'area ai piedi del bastione della ghiacciaia, a cui potrebbe aver dato il nome. Grazie al finanziamento della Fraternità dei Laici, deliberato dal magistrato in linea con il suo statuto per la tutela culturale della comunità aretina, la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ha effettuato uno scavo archeologico nella zona nord della città, fuori dalle mura, mettendo in luce una struttura interpretabile come conserva per il ghiaccio. Questo è un parco archeologico, qui emergeranno altri reperti archeologici che porteranno anche a una rivisitazione della stessa storia. È con dignità che ho rappresentato il magistrato, che qui è con me la dottoressa Galoppio e il dottor Ghezzi, in questa operazione, in quanto la Fraternità ha nel suo statuto la tutela della cultura della comunità di Arezzo. Questa zona deve ritornare al suo splendore e probabilmente qua sotto c'è una città sepolta di epoche diverse che noi dobbiamo ritrovare e far sì che tutta la gente di Arezzo possa ritornare a conoscere un luogo che sarà un parco archeologico nel nostro intendimento. Tutto questo viene fatto insieme con il Comune, con il Sindaco che è stato informato, con la sovraintendenza in modo tale che tutte le strutture, la Fondazione Cultura, partecipino a questa nuova storia della città di Arezzo. Noi abbiamo condotto questo intervento di scavo appunto in sinergia con la Fraternità, proprio grazie anche all'input della Fraternità e abbiamo quindi effettuato questo intervento che per il momento è un intervento preliminare e che aveva la finalità di individuare in loco queste strutture che si supponeva attraverso studi, prospezioni ed esame della cartografia storica essere qui presente. Come diceva il professor Rossi si tratta di una zona di Arezzo che per il momento archeologicamente non è tra le più conosciute e auspichiamo quindi con il proseguo dei lavori, con l'auspicabile svuotamento e scavo stratigrafico all'interno e anche all'esterno della struttura che abbiamo rinvenuto, di poter poi valorizzare quest'area in un percorso che comprenda anche le altre evidenze archeologiche che sono qui nei paraggi. L'intervento di scavo ha interessato tra l'altro anche un'altra zona qui vicino dove erano state viste delle anomalie e dove è stata trovata una struttura muraria possente della quale per il momento sappiamo pochissimo ma che potrebbe veramente dare nuovi dati, aprire una nuova luce sulla storia di Arezzo. Il lavoro di Fraterni è un lavoro straordinario perché veramente si sta riscoprendo sempre la storia di Arezzo però come già detto prima sarà nostro compito poi far sì che questo enorme sforzo diventi anche un'attrattiva turistica perché sempre più il turismo sta crescendo in città però dobbiamo fornire al turista sempre più attività, sempre più delle forme per far sì che rimanga nel nostro territorio quindi questa sicuramente è una di quelle che però starà a noi poi migliorare dal punto di vista della promozione quindi la speranza è che negli anni veramente diventi qui un parco archeologico che diventi una vera e propria attrazione turistica per tutti coloro che visitano la nostra città oltre ovviamente che essere uno straordinario strumento per raccontare la storia della nostra città anche a noi aretini perché siamo sempre gli ultimi forse a conoscere da dove siamo venuti e quali sono le nostre radici quindi questo sicuramente è una scoperta straordinaria. Grazie a tutti.